Benvenuti e bentornati in questa nuova puntata di Astronomia al Planetario. Sì, in questa puntata sono di nuovo da solo, quindi si ritorna con la vecchia scuola scheggiadenti spacca ossa. Sì, non sono molte quelle che quest'anno sto facendo da solo, ma mi sto divertendo anche perché sto cercando appunto di sperimentare, avendo sempre gente qua in studio e mi fa anche ragionare in maniera diversa, mi fa anche improvvisare. Poi, diciamocelo, essere qui da soli e parlarvi rispetto ad essere in compagnia e parlare di come si falsificavano i dati in laboratorio, cosa mai fatta, è comunque molto divertente. Bene, oggi, come avete visto dal titolo, vi voglio parlare dell'astronomia ai raggi X. Parte dell'astronomia a cui molto spesso non viene data la stessa importanza di quella ottica, o anche di quella radio, forse per la sua relativa gioventù. Inoltre, ve ne parlo perché l'anno scorso ho seguito il corso di alte energie, quindi proprio concentrato sulla parte dei raggi X. E quest'anno, nell'ultimo modulo di laboratorio, stiamo trattando i dati ai raggi X di sorgenti extragalattiche. E quindi mi sono detto, perché no? Perché non parlare di questa parte dell'astronomia? La cosa interessante dei raggi X, sì, gli stessi di quando vi fanno le lastre, è riuscire a catturarli. Sono quello spettro della luce estremamente energetico, e di conseguenza le normali tecniche usate in ottico, cioè con specchi per la riflessione, non si riesce a catturarli. O meglio, li puoi catturare, ma non li riesci a focalizzare, e cioè non avendo idea da dove arrivino. E con questo costituisce un problema non da poco per l'astronomia. Se noi non vediamo l'assorgente e non capiamo da dove arrivano i fotoni, risulta un pochino un problema. Studiare l'assorgente che vogliamo, in quel caso andare a studiare, può essere che ne stiamo studiando una da un'altra parte. Benissimo, oggi parliamo dell'astronomia ai raggi X, e di quelli che sono stati i più grandi sviluppi fino ad oggi. Quindi io direi sigla e poi cominciamo. Allora, io direi di non partire subito dai raggi X, però direi di partire un pochino indietro. Il primo che dobbiamo ringraziare per la scoperta dei raggi X, ovvero appunto quella parte dello spettro luminoso alle frequenze più elevate, che quindi trasporta più energia, la dobbiamo a Willem Conrad Röttgen. Allora, sono sicuro di aver pronunciato bene il cognome. Il nome e il secondo nome non sono sicuro. Cioè, non so perché continuo a impelagarmi con questi nomi, ma è anche giusto che mi vediate sbagliare. Che appunto nel 1901 vinse il premio Nobel per la scoperta dei raggi X. Riscontrò subito successo. E l'impiego dei raggi X, così chiamati perché non avevano un nome e quindi quello doveva essere un nome temporaneo, però ovviamente essendo noi gente fisici estremamente svogliati a cercare cose, a cercare nomi fantasiosi, gli è rimasto quel nome. Quindi X era perché era un'incognita all'epoca. Si diffuse per l'Europa creando anche abbastanza paura, perché quello che si vedeva nelle foto era una mano o un piede o parti del corpo di uno scheletro. Particolarmente significativo, e vi rimando alla foto se riesco a metterla, è della mano della moglie di Röttgen, in cui si vede lo scheletro di questa figura spettrale e questo bozzo nero che altro non era un anello nella mano. Già qui possiamo vedere una caratteristica interessante della luce, e in particolare della radiazione a queste frequenze. Quando diventa energetica aumenta il suo potere penetrante, ed è per questo che si usano per fare le lastre, perché appunto attraverso i tessuti molli senza risentirne particolarmente. Mentre tessuti più densi, come le ossa, vengono mostrati sulle lastre perché possono deviare i fotoni e i raggi, e in alcuni casi anche assorbirli. Se caliamo in energia, ad esempio, anche soltanto nell'ottico, ovvero la luce che vediamo ogni giorno, anche soltanto la nostra pelle costituisce un blocco per questo tipo di radiazione, perché nella luce ottica noi non avremmo un'ombra se non costituisse un muro insormontabile per questo tipo di radiazione. Per i fotoni e raggi X, invece, quello che li può fermare e assorbire sono materiali estremamente densi, come ad esempio il piombo o il ferro, in cui la densità degli elettroni e atomi non permette un'altra propagazione delle onde, e, che dirsi, o delle particelle, che dirsi voglia. Sì, facciamo piccoli jokes sulla dualità della luce e delle particelle, però, sì, non vi preoccupate, aiuto. È per questo che ho bisogno di persone, come vedete, in studio, perché sennò mi perdo in queste cose. Ma, tornando ai raggi X, essi non trovano impiego subito nella medicina, ma, ad esempio in Italia, arrivano e vengono utilizzati come calzascarpe. Sì, non avete sentito male. Infatti, c'era il cosiddetto fluoroscopio per calzatura, ovvero, invece di alzare il pollicione e vedere e sentire come vi sta la scarpa, attività svolta che, quando ero piccolo da mia madre, la quale continuava a spingere il pollicione in giù, non capendo dove effettivamente arrivasse, diciamo che falsificava i dati per farmi prendere delle scarpe più grandi, in modo tale da non dover tornare ogni sei mesi a comprarmi delle scarpe nuove, con questo fluoroscopio potevate vedere esattamente come vi stavano le ossa nel piede dentro la scarpa, per non farvi mancare nulla, insomma. Diciamo che a me questo fa un pochino impressione. Non lo so come avrei preso vedere direttamente il mio pollicione che si muoveva all'interno del... Faccia un po' senso. Però, vabbè, per fortuna, con le scoperte sui raggi X, si è capito come non è che essere colpiti per diverso tempo da una radiazione altamente energetica faccia proprio bene, quindi è stato poi piano piano tralasciato il fluoroscopio. Citiamo però altre due personalità estremamente importanti, come Rutherford ed S. Il primo per la scoperta dei raggi gamma, ovvero una radiazione ancora più energetica e collimata dei raggi X, e S invece per la scoperta dei raggi cosmici, ovvero particelle ad alta energia che colpiscono la Terra da ogni direzione e di cui tuttora non è che si abbia ben chiaro da che cosa siano generati, però sappiamo che il cielo è pieno di queste missioni, e anzi, sono in molte volte d'intralcio per le osservazioni che vogliamo fare. Per fortuna noi da questa radiazione siamo protetti, le particelle della nostra atmosfera fanno sì che si crei un muro che ci protegge da tale radiazione ai raggi X, anche perché, se no, non sarebbe molto comodo per noi viverci. Sono radiazioni estremamente energetiche che per la nostra vita non è che facciano molto bene. Immaginate essere colpiti ogni secondo dai raggi X del Sole, beh, di sicuro si potrebbe scrivere di fantascienza, ricordiamo ad esempio Hulk, no, però Hulk era raggi gamma, mi sembra. Beh, diciamo che bello bello, però non ci vivrei in questo ambiente. Quindi, atmosfera ci protegge. Ok, sviluppiamo la vita, però noi a un certo punto siamo così strani che se volessi studiare il cielo nei raggi X, come potrei fare? Eh, c'è solo una soluzione. E cioè, devo andare dove non si respira, devo andare nello spazio, o in realtà anche solo a 200 km nell'atmosfera, però sì, faceva più effetto dire andare nello spazio e sfidare l'universo e dirgli mo, mo adesso ti vedo bene. E quindi, a voi che siete arrivati fino a 7 minuti e 50, comincia la vera storia di oggi. Ovvero, la nostra storia comincia con delle mongolfiere e con i primi esperimenti, però non ci danno moltissime informazioni, ci dicono soltanto a zii, guarda che devi andare più in alto perché ci sei quasi, però keep going, vai, vai anche un pochino più in alto e vediamo che forse ci arrivi a vedere qualcosa. Finalmente, però, si arriva al 1945 e alla rivoluzione di Von Braun, ovvero i razzi V2. Noi, ovviamente, come poveri astrofisici, non vogliamo colpire nessuno e vogliamo solo che facciano qualche giro intorno alla Terra e poi tornino giù per darci dati. Vogliamo sapere, insomma, bramiamo la conoscenza, sapere cosa c'è lassù e per vedere meglio cosa c'è qua giù se siete geologi oppure meteorologi oppure studiosi del pianeta Terra. Pianetisti? Esiste? Boh, andiamo avanti. Si attende fino al 1949, circa dopo che i militari americani e russi hanno studiato e capito come utilizzare quelle bellissime innovazioni di Von Braun e utilizzarle come oggetti bellici. Stranamente, sono militari o utilizzano come oggetti bellici. Quando si rendono conto di avere fin troppo di quei missili e quindi scendono nel seminerato, aprono una botola che dà nel buio e chiedono a fisici e astrofisici a O. Sì, anche in America hanno accento romano, ma oggi mi sono svegliato con accento romano, quindi lo manterrò anche se sono di Modena. Ci avanzano dei razzi un po' vecchiotti, noi abbiamo quelli nuovi e più potenti, volete utilizzarli prima che li smantelliamo? E la risposta da sotto risulta in coro, risulta essere come siete umani voi! Ed ecco, gli scienziati ti prendono i missili e li trasformano, togliendo le cariche esplosive e mettendoci dentro invece dei counter tubes, i primi rilevatori ai raggi X. Questi funzionavano con dei tubi riempiti di gas, di solito neon o argon, dei gas nobili che interagiscono poco, quindi molto stabili, ci servono questi tipi di gas per fare degli esperimenti di questo tipo, e un filo dove è applicato una differenza di potenziale, in realtà poi due fili. Ora, se gli elettroni si muovono da un filo all'altro, catodo e anodono per capirci, si genera una corrente elettrica, un segnale elettrico e in questo tubo c'è un'apertura, un vetro per evitare che vada fuori. Sì, dai, se dico c'è un'apertura non intendo che è aperto verso un universo, però sarebbe molto divertente, ammetto, fanno tutto nei minimi particolari e poi ci fanno un buco dicendo sì, bravo Mike, hai bruttato 5 milioni di dollari adesso per mantenere tutto il neon e l'argon che avevamo messo. Comunque, il fotone X colpisce il gas che fotoionizza, ovvero il fotone viene assorbito dall'atomo di gas e questo rilascia un elettrone. Ora, gli elettroni sono particelle molto veloci e avendo guadagnato energia e velocità dal fotone si staccano dall'atomo ed essendo in un voltaggio, visto che ci sono quei due fili di catodo e anodo, si muovono assieme andando a colpire il counter posto alla base del tubo di gas. Contatore, quindi counter sta per contatore appunto, che poi ci ridà un segnale elettrico da cui si risale all'energia del fotone X. Questo era in generale il funzionamento dei primi contatori per l'appunto. Il primo viaggio avviene a un'altezza di 87 km con il missile che nel frattempo ruotava su se stesso e ogni 12 secondi si è registrato appunto un segnale interessante nei raggi X mostrando proprio un picco nella registrazione ogni volta che il sole rientrava nel campo di vista dell'apertura del detector. Quindi la prima forte sorgente dei raggi X mai registrata e scoperta fu proprio la nostra stella. In realtà non è una fonte di raggi X molto forte, anzi le stelle non sono interessantissime, però avendola dietro casa risulta essere una sorgente potentissima è come se io vi dicessi ok prendete un accendino ve lo mettete a 2 cm dagli occhi effettivamente non fa tantissima luce però avendolo così vicino fa anche molto calore. Appunto questa però sorgente venne registrata anche con sistemi così avanzati per l'epoca e che hanno aperto la strada per tutta la scoperta successiva. In realtà appunto il sole è anche la prima sorgente di cui si è fatta imaging, cioè si è costruita un'immagine poi arrivando intorno agli anni sessanta però si è appunto costruita un'immagine vera del sole mentre qua stiamo parlando soltanto di due un grafico con due sbarrette una che mi dice il tempo passato e l'altra che mi dice i conteggi avvenuti. Il sole e i raggi X e le stelle in generale la parte che emette nei raggi X è la corona solare per intenderci la parte più esterna dell'atmosfera. In questa zona si arriva a milioni di gradi e avviene che il plasma a quelle alte temperature viene convogliato dalle linee del campo magnetico indirizzando le particelle a ricadere poi nelle parti sottostanti dell'atmosfera. Quindi stavano cercando di fuggire però sono incanalate per ricadere sulla stessa atmosfera del sole andando quindi a riscaldare il gas alle altissime temperature per poi emettere nei raggi X e per altissime temperature intendo milioni decine e anche centinaia di milioni di gradi. Una cosa interessante è che essendo l'unica sorgente stellare risolta ovvero di cui abbiamo fatto imaging che l'abbiamo osservata molto da vicino che non sia un puntino per intenderla e guardandola per oltre 60 anni ci si è accorti che il sole ha un periodo di variabilità di circa 11 anni ovvero che arriva da un picco di raggi X poi torna a calare e per poi riprendere quindi segue questo ciclo di emissione forte nei raggi X ma torniamo all'astronomia uno dei pilastri per l'osservazione e per la ricerca mondiale in questo campo è stato un italiano ovvero Roberto Giacconi poi premio Nobel nel 2002 per il suo contributo all'astronomia e astrofisica nei raggi X praticamente l'ha vista nascere e l'ha fatta crescere proprio lui partendo proprio negli anni 60 con l'utilizzo dei razzi aerobie razzi sempre demilitarizzati e progettati per viaggi a oltre 230 km di altezza e arrivando a registrare delle energie più elevati di quelle degli anni 50 su cui invece si erano montati e su questi sono stati montati anche dei contatori Geiger appunto gli stessi contatori che si vedono nei film per registrare le radiazioni quelle radiazioni lì sono appunto radiazioni dello scorpione da quello la sigla scorpion appunto costellazione dello scorpione x perché è nell'x e 1 perché è la prima sì allora una volta che andate a vedere i nomi delle sorgenti a raggi x qualsiasi sorgente nell'astronomia moderna vedete che il nome non è estremamente complesso che è un sistema binario di una stella di neutroni e una stella di grande massa con un colore blu possiamo immaginarcelo i quali interagendo producono emissione alle alte energie ma soprattutto fa una scoperta sorprendente ovvero i nuovi strumenti si è accorto che sotto il segnale scorpion x1 e nel resto del cielo il segnale non è nullo ma cos'è che potrebbe essere potrebbe essere un errore dello strumento andiamo modellizziamo togliamo ciò ai dati e abbiamo così come con il sole togliamo tutto ciò che non è segnale o comunque segnale che noi sappiamo esserci lo andiamo a togliere quindi in un caso in cui noi abbiamo modellizzato tutta l'emissione del cielo quello che ci rimane deve essere o il segnale di una sorgente quindi scorpion x1 il resto deve essere portato a zero quindi si fa la modellizzazione però ci si è accorti che tale segnale seppur basso era troppo alto per essere un errore strumentale o qualsiasi cosa che noi precedentemente sapessimo e mentre il missile girava nel suo modo intorno alla terra mostrava un segnale non nullo su tutto il cielo questa è una delle scoperte più interessanti e più importanti che possiamo paragonare alla scoperta della radiazione cosmica di fondo questa è una radiazione cosmica nei raggi x ovvero tutte le sorgenti della nostra galassia ancora non risolte e tutta la radiazione che arriva direttamente dall'universo da sorgenti lontane che tuttora non abbiamo osservato tutto questo si va a sommare producendo appunto una radiazione che arriva da tutto il cielo tuttora si sta modellizzando tale radiazione per capire da che cose dovute e quali e quante sorgenti conosciamo che possono aver contribuito a quella radiazione ma tutto parte da qua tutto parte dagli anni 60 negli anni 80 però la rivoluzione continua Giacconi mette tutte le sue energie e riesce assieme alla NASA se vogliamo renderla meno romantica la NASA concede a Giacconi di costruire il telescopio Einstein IAO2 e H-E-A-O-2 il primo telescopio NASA a ospitare un programma estero e quindi dal 1978 al 1981 è il primo telescopio nei raggi x a produrre immagini delle sorgenti che fino ad allora erano state osservate appunto soltanto con dei conteggi su un grafico ora invece abbiamo sostituito a grafici e puntini oltre a quelli perché quelli comunque li teniamo siamo affezionati ai diagrammi ai grafici e ai puntini si ha però il privilegio di vedere la forma della sorgente che si osserva il problema è che come abbiamo detto finora i fotoni alle alte energie sono estremamente sfoggenti ed è anche estremamente difficile deviarli anche perché tendono ad andare dritti a livello di ottica è come cercare di deviare un tiro in autostrada se gli metti una macchina davanti diciamo che è difficile che si fermi però se lo incanali cioè cerchi di fargli fare piccole variazioni è più probabile che ti segua gli metti un guardrail abbastanza potente abbastanza fisso per terra che lo riesce a deviare però non lo deve prendere proprio di punta quindi guardando un telescopio ai raggi X quello che si vedrà non sarà un grande specchio che riflette la luce quanto invece specchie ai lati del tubo che diflettono di piccoli angoli i raggi appunto che arrivano facendoli confluire in un ricevitore questo modo di mettere gli specchi è detto anche con una montatura alla Walter facendo così però vedremo solo i fotoni che arrivano da una sola precisa direzione mentre se vogliamo ampliare il nostro campo di vista si mettono diversi specchi concentrici lasciando però solo pochi centimetri di spazio tra un e l'altro questa tipologia viene chiamata annidamento degli specchi perché si va a creare una specie di nido per l'appunto in cui abbiamo diversi specchi il problema resta sempre ok ma come li raccogli? una volta che li hai deviati devi comunque avere qualcosa che ti raccoglie i fotoni che ti raccoglie l'informazione fortuna vuole che negli anni 60 venne sviluppato il CCD se volete potete chiamarlo anche dispositivo di accoppiamento di carica come ha detto Lorenzo nella puntata scorsa ma non mi sembra ugualmente elegante anzi è anche molto più veloce da dire il CCD ovvero un francobollo con uno strato di silicio che se colpito da un fotone reagisce creando segnale elettrico pari all'energia del fotone cosa succede per un fotone che colpisce il CCD? ottima domanda rispondiamo subito quello il CCD assorbe e libera pure lui come il gas degli elettroni però ci troviamo nel solido in particolare nel silicio a bassissima temperatura un super conduttore di corrente gli elettroni non sono liberi come nel gas nel solido di solito ah 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 questo è un gioco di battute però quando si va in fase di lettura trasmette la sua carica quella che ha appunto con cui si è caricato ed è proporzionale all'energia dei fotoni che sono arrivati al lettore una cosa molto migliore è che ha una risoluzione estremamente migliore rispetto a quella dei counter tube che si erano utilizzati fino ad ora quindi il fotone che arriva io lo vedo in un punto preciso nel CCD che poi trasporto nel cielo questo mi consente di non dover calcolare di dire vado a vedere come girava il mio missile in quella posizione stava guardando quella porzione di cielo andiamo a vedere dove si trovava ho più o meno un'idea di dove viene ora invece abbiamo proprio un CCD che mi dice il fotone è arrivato in questo punto io questo punto lo trasmetto e lo ribalto in cielo se prima avevamo un errore sulla posizione della sorgente di qualche grado in cielo che sono tantissimi era come dire che la sorgente fosse in Italia fosse tra Milano e Roma ora con i CCD possiamo invece ridurre l'errore di dieci volte se prima era Milano Roma ora è Milano Piacenza per intenderci ma non solo memorizza quando gli è arrivato il fotone ed essendoci tantissimi rilevatori nel francobollo questi ci dicono esattamente da dove arriva quindi noi abbiamo tre informazioni la posizione l'energia da cui ci risaliamo grazie agli elettroni che ha liberato nel CCD e il timing ovvero quando è arrivato per darvi un'idea è lo stesso strumento alla base delle fotocamere digitali dei telefoni di oggi e che solo però negli anni 90 arriva ad un impiego diffuso come la televisione uno strumento potentissimo che però trovò come primo amore l'astronomia il CCD come dicevamo viene prima viene letto da un apposito strumento che poi lo converte in segnale digitale e poi mandato alla terra però tutto parte appunto da un fotone che colpisce il silicio questo strumento ha veramente rivoluzionato l'astronomia X permettendo agli scienziati di capire come si comportavano gli oggetti che vedevano solo nell'ottico e nelle bande a energie minori quindi ad esempio nel radio mentre ora possiamo scoprire vedere quantificare l'emissione X di oggetti come le supernove come i cluster di galassie la galassia di Andromeda la piccola e la grande numbe di Magellano oppure le pulsar i quasar le aurore di Giove che emettono nei raggi X oppure la sempre presente radiazione di fondo poi dovendo però giustificare tutte queste radiazioni di cui molte non erano attese permettendo quindi l'avanzamento dell'astronomia X che segue sì molto spesso la pratica segue la teoria in questo caso molte volte come ad esempio per le aurore di Giove invece è stato l'opposto ovvero la pratica le osservazioni e vedere le sorgenti ci ha permesso di far fare poi passi avanti alla teoria se vi chiedete a qualsiasi astronomo delle alte energie e se il telescopio Einstein 2 ha rivoluzionato il mondo di vedere i raggi X questo vi risponderà 99 volte su 10 sì prima di passare però ai grandi telescopi moderni mi piacerebbe fare una piccola parentesi su Beppo Sachs il telescopio spaziale alle altissime energie in onore di Giuseppe Beppo Occhialini appunto Beppo da cui il nome poi Beppo Sachs che dal 1999 al 2002 ha viaggiato in orbita restituendo posizione accurata di quelli che sono tra gli eventi più energetici del cielo alle altissime energie ovvero sopra i raggi X nei raggi gamma e in particolare restituendo le primissime misure dei gamma ray burst ovvero delle emissioni molto veloci di altissima energia che nel giro di qualche ora spariscono nel cielo e questo satellite italiano e tedesco fu tra i primi a permettere una localizzazione in cielo di tali sorgenti diciamo che effettivamente gli italiani con quelle che sono le altissime energie ci sto pensando adesso anche con Samuele che va a lavorare appunto con l'universo alle alte energie siamo attirati da queste alte energie anche io un pochino non è male pensare un po' alle alte energie e dire interessa un pochino dai siamo lì è interessante mica male ma arriviamo all'attualità perché so che voi state aspettando di sapere che cosa c'è attualmente in cielo ovvero andiamo a parlare dei due grandi telescopi ai raggi X in realtà sono sette però io vi parlerò prevalentemente di due che popolano il nostro cielo e che da oltre vent'anni ci permettono di capire e studiare questo cielo così misterioso e sto parlando proprio di loro due ovvero Chandra e XMM Newton il primo missione della NASA il secondo invece tutto di fattura europea bello di papà XMM Newton vuole andare a pigliargli le guance a fargli come faceva mia zia proprio guarda che bello che sei partiamo da Chandra però di cui finalmente ho trovato a che cosa è dovuto il suo nome e cioè adesso qua diventa difficile Subramahinyan Chandra Seca allora il cognome anche qua sono sicuro di averlo detto bene il nome scusatemi è uno si parla di uno dei più grandi astrofisici del ventesimo secolo padre teorico per il limite in massa delle stelle morenti il quale ha messo a punto il limite oltre il quale una stella diventa un buco nero la parte Chandra del cognome penso o nome non lo so significherebbe luna o luminoso in sanscrito ha un diametro di circa 1,2 metri e utilizza appunto il grazing incident ovvero deviare i fotoni di piccoli angoli come dicevamo prima appunto non uno specchio riflettente ma più specchi deflettenti in particolare per ridurre il fuoco ovvero dove i fotoni vengono convogliati si fa un mix tra specchi parabolici e specchi iperbolici dove non vi preoccupate l'unica cosa che cambia è l'angolo di inclinazione in pratica sempre per il concetto di deviare maggiormente il fotone specchi parabolici sono meno inclinati specchi iperbolici sono più inclinati avendo il fuoco a soli 10 metri si ecco quanto ci vuole per deviare e convogliare i fotoni X in poco spazio questo è poco spazio Chandra appunto Chandra presenta quattro specchi uno dentro l'alto fatti da un substrato di zero dure vetro ceramica che evita si dilati con il calore ed è estremamente lucido e non poroso costituisce praticamente un ottimo materiale per uno specchio evita appunto che i fotoni e alle altissime energie vengano deviati per colpa che ci sia una cavità che noi non volevamo nello specchio e quindi poi vadano da un'altra parte venne mandato nello spazio grazie allo shuttle infatti con un peso di 5860 kg fu nel 1999 il telescopio più grande e più pesante mai lanciato per il quale infatti un propulsore un razzo per intenderci non bastava ma venne portato nella sua orbita nel vano dello shuttle quando ancora c'era lo shuttle la missione doveva durare circa cinque anni fatto sta che l'hanno fatto così bene che è ancora in cielo e ci restituisce i dati non come quando era giovane e prestante ma ancora i migliori in questo campo a tal proposito Chandra ha la migliore risoluzione angolare cioè riesce a risolvere due sorgenti molto vicine e a darci molti dettagli di quelle che sono le sorgenti che vogliamo studiare un'immagine sempre impressionante è vedere la risoluzione della nebulosa del granchio che cerco appunto di allegarvi in descrizione vista con Chandra ci consente di andare a vedere il materiale più caldo attorno al resto della stella morente cosa che negli anni 80 vedevamo soltanto come un pallocchio in cielo cioè quella che era la nebulosa del granchio che già in ottico con un telescopio che sia diverso da Hubble risulta non bellissima anche negli anni 80 risultava essere soltanto una palla in cielo tra le scoperte però più importanti ricordiamo oltre alla crab nebula anche il Chandra Deep Field Sud in una zona piccolissima di cielo l'equivalente di dire ok guardo una moneta da 2 euro da oltre 500 km di distanza insomma un gioco da ragazzi qui si è lasciato che il telescopio andasse a rilevare le sorgenti più deboli nascoste nelle zone più distanti dell'universo una cosa interessantissima è che oltre a essere capitanata da Giacconi è stata una delle esposizioni più lunghe mai intentate infatti si tratta di dati che dal 2000 al 2010 si sono andati a sommare per un totale di 7 milioni di secondi di osservazione su una stessa zona ovviamente non in maniera continuativa a pezzi tra le altre osservazioni non è che si può lasciare per 8 10 anni un telescopio fisso sono soltanto un punto anche gli altri poveri astronomi hanno bisogno di quel telescopio questa osservazione prolungata però ci ha permesso di avere dati sempre più precisi sulla radiazione a raggi X dell'universo scoprendo e aumentando il numero di nuclei galattici attivi cioè oggetti attorno ai buchi neri supermassicci che emettono appunto anche nei raggi X e di quelli estremamente oscurati che normalmente non riusciremmo a vedere come si dice in gerco questo è stato come inserire uno spillo nella trama dell'universo andando in profondità come non si era mai fatto è lo stesso sistema il deep field facendo una survey quindi a grande profondità come questa di quando ci si ritrova immediatamente in una stanza buia in cui però c'è qualche sorgente luminosa però appena si spengono le luci più importanti noi non ci vediamo però se noi aspettiamo qualche secondo come anche al planetario se volete venire al planetario noi vi invitiamo sempre al planetario di Modena in Viale Jacopo Barozzi io vi invito ad andare sul nostro sito e venirci a trovare al planetario per le iniziative che facciamo tra i quali anche domeniche con le famiglie oppure le conferenze il giovedì e il sabato sera prego per questa piccola marchetta e per l'appunto cosa si succede che quando si spengono le luci il nostro occhio dopo circa 20-25 secondi si abitua al buio e noi cominciamo a vedere sempre più oggetti questo è lo stesso principio del Chandra Deep Field Sud o comunque delle osservazioni che vengono lasciate libere di osservare un oggetto per molto tempo ovvero andiamo sempre più in profondità vediamo sempre oggetti meno luminosi quindi potete anche soltanto immaginare tutte le cose che si sono scoperte passiamo però a XMM Newton ovviamente meno eleganza del nome in Europa nel nominare i telescopi non vi sto nemmeno a dire a chi è dedicato e ovviamente sto parlando di Messier no ok no non sto parlando di Messier sta parlando sempre di lui sempre di sua maestà Newton che ha rivoluzionato la fisica e ovviamente gli hanno dedicato anche un telescopio e raggi X no mi sta simpatico Newton non è soltanto che gli stiamo dedicando troppa roba questo telescopio è complementare a Chandra cosa voglio dire non ha la stessa risoluzione non riusciamo ad osservare la crab nebula ma anzi ci appare proprio come un palloncino in cielo una pallocchia sempre la parola di questa puntata sarà pallocchia ma cosa lo abbiamo costruito a fare allora io voglio andare a vedere ogni cosa bene i soldi dei contribuenti buttati per un telescopio che è costato milioni no allora calma innanzitutto stiamo veramente molto calmini secondo me non è che ogni cosa la possiamo osservare in profondità ma bisogna anche riuscire a vedere bene su aree maggiori Chandra se non vedete esattamente sull'asse focale ma la vostra sorgente è leggermente spostata risulta essere estremamente deteriorata è come se voi vedeste qualcosa al limite del vostro campo visivo non lo vedete bene come vederlo davanti cosa che in molti casi può portare anche a dover buttare quei dati su xmm newton riusciamo invece a vedere anche se è più distante dall'area focale abbiamo una risoluzione minore sì però riusciamo a vedere anche sorgenti che sono più distanti permettendoci di non dover puntare esattamente sulla sorgente con i suoi tre nidi sì parliamo di nidi di specchi non solo uno come Chandra ma 58 specchi innestati uno dentro l'altro per ogni modulo permette di andare ad osservare su un'area molto maggiore rispetto a quella di Chandra permettendoci di fare spettroscopia ovvero andare a vedere il dna di un oggetto celeste andando a vedere com'è la luce che ci arriva da tale sorgente e avendo un campo di vista maggiore corriamo meno il rischio di perdere fotoni e quindi di avere informazioni più precise si è dovuto risparmiare un pochino sugli specchi e spero i miei professori non mi sentano dire queste parole però ci abbiamo guadagnato potendo osservare su aree sempre più grandi quindi avendo sempre più fotoni che ci arrivano e sempre più informazioni XMM riesce a prendere più informazioni appunto da aree maggiori quindi ad esempio una sorgente che presenti dei getti su un'area maggiore verrà studiata meglio con XMM invece l'emissione specifica delle varie zone verrà ripresa con Chandra se si nota qualcosa di particolare e lo voglio tornare ad osservare XMM ha una lunghezza focale di soli 7.5 metri si dai piccolino rispetto a Chandra ma comunque si sta parlando di telescopi abbastanza grandi immaginatevi 7.5 metri e 10 metri per convogliare dei fotoni degli oggetti che noi delle particelle che noi non vediamo inoltre presenta un grating ovvero una specie di graticola ve lo dovete immaginare tipo dei gradini molto piccoli che devia una parte dei fotoni X e li manda su un CCD particolare costruito apposta per fare spettroscopia ad alta risoluzione ovvero oltre a fare delle belle immagini una marcia in più di XMM è quello di riuscire a dirti con precisione e finora con pochi uguali quali sono gli elementi e la chimica della sorgente che si sta osservando fortuna vuole che la comunità scientifica ha avuto in orbita e tuttora funzionanti per fortuna veramente telescopi che dovevano durare 5-6 anni stanno durando 22 anni due telescopi appunto nei raggi X complementari uno con un'altissima risoluzione e uno invece con un'area efficace e ottimo per fare spettroscopia permettendo quindi una crescita di collaborazione tra le due agenzie spaziali senza che fossero in competizioni e finalmente veramente non si fanno la guerra ma si collabora per andare a vedere le sorgenti in cielo bello e questo qua appunto ci porta al futuro le prossime le ultimissime future missioni spaziali come Erosita l'ultima missione europea lanciata e Athena si deve essere pronunciata con l'h nel mezzo quindi Athena che invece negli anni 30 sarà il futuro dell'astrofisica ai raggi X o almeno si spera io direi di partire da Erosita l'ultima missione lanciata anche se non proprio l'ultima l'ultima ma l'ultima che ha mandato i dati e di cui si è cominciato a fare della fisica importante tale strumento è un all sky ovvero copre tutto il cielo facendo due volte all'anno un giro completo tra le foto più belle composte con i dati di Erosita c'è la vista nei raggi X con una risoluzione mai ottenuta della via Lattea ovvero della nostra galassia in particolare si possono notare due forti emissioni sopra e sotto il piano della nostra galassia quelle che sono i resti dell'attività si pensa del nostro buco nero centrale insieme a una forte attività di formazione stellare che hanno creato una specie di fontana galattica nelle alte energie di cui ora noi ne vediamo i resti se riesco vi leggo qui sotto una foto anche qua siamo già arrivati a tre foto che vi devo allegare chissà se mi ricordo e appunto queste fontane galattiche vengono chiamate Fermi Bubbles o comunque X-Ray Bubbles allargando le sorgenti di raggi X e Rosita permettendo di arrivare a oltre un milione tra stelle binarie sorgenti stellari gas che si è scioccato ovvero che si è scontrato ad alta velocità con il mezzo interstellare e a massi di galassie e poi chi più ne ha più ne metta prima di passare però al futuro facciamo un piccolo spot su un'attuale missione che ha avuto poco riscontro mediatico una missione minore però con una grande collaborazione italiana un grande cuore italiano ovvero il telescopio spaziale XPE di cui vi metto il link qui sotto siamo arrivati a quattro link destinato ad andare ad esplorare la luce X in particolare la sua polarizzazione però non vi sto a fare sulla polarizzazione ma passiamo all'ultima grande missione di cui sono a conoscenza che sarà Athena che sta aspettando l'ultimo via libera da parte della commissione spaziale che approva le missioni e quindi dove manda i fondi destinata forse a partire dal 2032 al 2034 tale missione dell'agenzia spaziale europea sarà destinata allo studio spettrale delle sorgenti e a migliorare l'area efficace rispetto agli attuali telescopi avremo informazioni almeno idealmente su cosa vuol dire la luce che arriva dalle sorgenti più massicce dell'universo vedere non più immagini sgranate ma andando in profondità e studiando ogni singola linea spettrale che cosa ci dice che cosa vuol dire quindi andremo a modellizzare i buchi neri supermassicci dentro le galassie con una risoluzione mai vista prima causerà si spera una nuova rivoluzione nelle alte energie ci sta lavorando un mio professore ha detto una frase con cui io poi vi lascio che mi ha lasciato un po' così un po' di poesia in mano un po' di amarezza ovvero chi si occupa della progettazione dei telescopi nei raggi X ma anche nelle altre missioni destinate ad andare nello spazio pensate anche a James Webb progettano qualcosa e lo costruiscono al migliore delle nostre o delle loro capacità ma non per noi per le generazioni future lui infatti ha utilizzato i telescopi Chandra e XMM e collabora alla progettazione di Athena però andrà in pensione prima che quest'ultimo andrà appunto in funzione verrà lanciato o comunque produrrà i primi dati sperando ovviamente che altri progetti non vincano al suo posto non so mi lascio un po' così non tanto angoscia prima ho sbagliato neanche amarezza direi più serenità pensandoci perché lasciare qualcosa ai posteri che lo miglioreranno che costruiranno qualcosa di meglio cioè noi gli diamo il là penso anche anch'io mi piacerebbe forse lavorare nel campo della progettazione dei telescopi costruiranno qualcosa di meglio imparando dai nostri errori quelli che noi pensavamo essere i nostri punti di forza e quelli che arrivano dopo le generazioni future come posso essere io per i miei attuali professori vedono qualcosa che con un occhio nuovo di conseguenza quelli che possono essere i vantaggi di un telescopio altri li possono vedere come delle pecche e quindi mi fa piacere mi lascia una certa serenità pensando a quanto sia bella incostante divenire l'astrofisica l'astronomia la scienza vedere appunto che ogni volta ogni generazione si riesce a migliorare le generazioni che arrivano i nuovi telescopi saranno sempre un passo avanti sempre qualcosa di più nella scienza e quindi sempre una costante rivoluzione questo è bello mi fa piacere e mi spinge a continuare bene io anche per oggi ho finito vi lascio con questa poesia finale che volevo fare volevo fare un ragionamento con voi noi ci vediamo la settimana prossima con forse una cosa leggermente diversa facciamo come come viene in mente quel gruppo inglese di comici e ora qualcosa di completamente diverso io vi invito sempre ad andare sul nostro sito vedere quali sono le iniziative vedere le conferenze a seguirci sul podcast se questa puntata vi è piaciuta mettete un like condividete e noi ci vediamo invece prossimamente ciao ciao